Ciao a tutti sono Bonf777 e benvenuti in questo nuovo pack opening Andrò velocissimo perchè voglio far uscire questo video il prima possibile Visto che lo sto registrando praticamente 20 minuti prima che lo vediate voi Come sempre andremo ad aprire 100.000 crediti e allora iniziamo con il primo L'altra volta avevamo trovato l'informa e io ovviamente non voglio trovare un altro Nella prima abbiamo Quaresma Fer Conte e... basta, niente di che Secondo pacchetto, vediamo cosa c'è, c'è Modeste Wittingham Terzo pacchetto, vediamo qua cosa abbiamo, abbiamo Demicellis quindi ancora niente Siamo al quarto pacchetto, io come sempre vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri pack opening Però qua abbiamo Farman quindi... ancora niente La sfiga torna, ci sarà sempre la sfiga nei pacchetti Ok qua c'è, qua c'è, qua c'è Arteta Che gace oce oce E rieccoci qua, ovviamente ogni volta che cerco di registrare FIFA deve fare il bastardo, non mi fa registrare tutto per avere un traurè Ok ancora 50.000 circa rimanenti Qui abbiamo... Montanes Ok evviva, dai per favore, in forma Grin, dai, 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 costa Cioè costerà pochissimo però Qui abbiamo... Agger Oh che bello è argento, è bellissimo No, ancora niente Dai anche qua me lo sento Qua c'è qualcuno, un 80 ancora, ancora... Bernard, che schifo Sono tornati i pack opening di un po' di tempo fa Un po' di tempo fa, pochissimo tempo fa, quelli schifosi Quindi sempre, perché è sempre un pack opening schifoso Ma dai, ma cos'è sta roba? Penultimo pacchetto Abbiamo ancora due chance per trovare qualcosina si salta Lampard Ultimo pacchetto, quindi A meno che non ci sia un miracolo adesso Non abbiamo ancora trovato niente E qua il negozio di Ultimate Team non va Carica, carica, carica Va bene, ora funziona Abbiamo Dempsey Quindi uno schifo E quindi Anche in questo pack opening Stramamente noi abbiamo trovato niente Abbiamo trovato un informa Giusto così, perché ci è data di fortuna Però, da lì, niente Se il video ti è piaciuto Metti mi piace, iscriviti al mio canale E commenta da BOM777 Tutto Ciao a tutti